Sì, siamo veramente molto contenti di tutte le iniziative che siamo riusciti a organizzare proprio da questo pomeriggio fino all'8 di gennaio 2023. E poi, tradizionalmente, il pomeriggio in cui vengono accese le luminarie, l'albero di Natale, l'inaugurazione della mostra dei presefi. Quest'anno, con una particolarissima novità, abbiamo anche dei figuranti del presefi che vengono direttamente dal San Regolo e siamo contenti di ospitarli. Speriamo sia l'inizio di una collaborazione importante. Un ringraziamento, naturalmente, all'Aprologo, a tutte le associazioni che hanno collaborato, la nostra appunto di questo ricco artillone. E questo pomeriggio, speciale ringraziamento all'Associazione Natale nel mondo e al concerto comunale, ci accompagnerà in questa sfilata e ci porterà all'accensione dell'albero di Natale.